La società acquedottistica della Ruzo Reti ha annunciato un aumento del flusso d'acqua per aiutare a scongiurare la crisi idrica a Silvi. L'azienda immetterà 80 litri al secondo in più nella rete ACA, di cui 50 saranno dirottati verso le zone collinari e costiere. Questo aumento è stato annunciato dal direttore generale Pierangelo Stirpe nel corso della riunione tenuta nella sala consigliare di Silvi, alla quale sono intervenuti anche i rappresentanti dell'ACA e dell'ERSI, l'ente regionale di controllo sul ciclo idrico, oltre al vicepresidente regionale Emanuele Imprudente. Noi attualmente stiamo erogando come soccorso idrico oltre 80 litri al secondo al gestore confinante all'ACA di Pescara. Poi ACA decide autonomamente, chiaramente in base alle sue esigenze, come e dove utilizzare questo soccorso idrico, questi litri che noi gli forniamo. Il Comune di Silvi ieri voleva essere rassicurato sulla continuità di questo soccorso, soprattutto nel mese di agosto, che è un mese ancora più critico, dove la popolazione aumenta perché aumenta il flusso turistico e anche i consumi aumentano di solito, e sovente capita che ci sia anche una contrazione della disponibilità delle sorgenti. Noi abbiamo confermato la nostra disponibilità, fatto salve chiaramente esigenze del nostro territorio. Ricordiamo che il Comune di Silvi è un comune dell'ACA, non della Ruzzoreti. Noi dobbiamo innanzitutto tutelare il fabbisogno idrico dei nostri comuni soci e serviti. Il sindaco Andrea Scordella ha sottolineato l'importanza di questo intervento che permetterà di evitare disagi durante il periodo di alta affluenza turistica ad agosto e la Ruzzo dal canto suo ha annunciato la massima sinergia per tutto il periodo estivo. Le esigenze si concludono con la fine del periodo estivo, quindi con la fine del periodo di agosto. Noi siamo in contatto continuo con la struttura tecnica e di management del gestore ACA, con il direttore Santedicole e con il direttore Livello. Con loro ci scambiamo informazioni, il nostro responsabile dell'Acquedotto, l'ingegnere De Dominicis, la nostra responsabile degli impianti di potabilizzazione, l'ingegnere Amadio. Mi danno disponibilità sulla base di questa, insieme al presidente Cognitti vengono prese delle scelte. Ad oggi continuiamo a soccorrere il territorio pescarese con 80-85 litri al secondo.